Giovani, buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926 per prima di iscrivervi al canale è gratis premessa, premessa, domani ore 15 uscirà il video di Bulli o l'ottavo o il setto per bisogno, non mi ricordo più l'ho registrato oggi, stasera lo edito, stanotte lo è e poi domani alle 3 lo vedrete, non vi preoccupate, non ho abbandonato la serie non vi preoccupate altra cosa, domani pomeriggio ore 3 ci sarà la live per parlare di Empoli Napoli detto questo, andiamo con il video e ah, ragazzi tasto like e commento perché voglio sapere la vostra, soprattutto la vostra su quello che sto per dirvi e vi ricordo, iscrivetevi, è gratis a voi non vi costa nulla, per me è importantissimo detto questo, ah, tutti quelli che dicono ma tu chiedi le iscrizioni per i soldi non funziona così, cioè apritevi un account youtube, fate video e poi capirete a cosa servono le iscrizioni le iscrizioni servono solo per far salire il video detto questo allora, voglio un minuto di intro ma è successo nella mia storia di youtube vabbè, a parte questo signori, potremmo portare 6 squadre in Champions League la prossima stagione quindi io ci credo ancora alla UEFA Champions League da parte del Napoli l'ho detto che ore sono quasi le 5 io credo che il Napoli possa ancora arrivare in Champions League non per meriti del Napoli ma per meriti altrui ovvero per meriti Atalanta e Roma che se, puttacaso, dovessero toccate ferro cari Atalantini, cari Romanisti arrivare in finale di UEFA Europa League e si dovrebbero qualificare quinta e sesta l'Italia potrebbe avere 6 squadre in Champions League ed è clamoroso ed è clamoroso quindi il sesto posto potrebbe valere per la UEFA Champions League a me è allucinante veramente è allucinante per questo io dico i meriti non sarebbero del Napoli ma sarebbero di squadre altrui però per una volta nella vita voglio dire un po' di fortuna ce la possiamo portare a Napoli una volta ogni tanto non vi chiediamo tutte le domeniche ma una volta ogni tanto non c'è stata conferenza stampa di Calzona ma tanto oramai ci siamo abituati quindi lasciamo stare perché anzi pure questa cosa di non fare le conferenze stampe trovo che sia una cosa ridicola totalmente ridicola a parte della SSC Napoli e sinceramente sinceramente non vedo l'ore che arrivi questo 4 maggio per sentire cosa vorrà dire il grande Aurelio De Laurenti se il 4 maggio vedrete una notizia clamorosa ma staremo a vedere io l'ho detto nel video di prima secondo me Pioli si potrebbe avvicinare clamorosamente alla panchina del Napoli spero di sbagliarmi e mi auguro che arrivi Conte o Gasperini allora perché io credo ancora nella qualificazione UEFA Champions League ragazzi perché tu devi affrontare il Bologna e la Roma in casa e ragazzi sappiamo che in casa potresti avere un piccolissimo vantaggio piccolissimo perché quest'anno il Napoli il big match l'ha vinto solo con la Juventus quindi alzo le mani e mi scuso mi scuso per i tifosi juventini che vi abbiamo tolto quei tre punti mi scuso veramente anche se il pareggio era molto più giusto che la vittoria del Napoli e io sono uno che dice le cose come stanno lo sapete ragazzi spero mi abbiate mi abbiate imparato a conoscere e sinceramente la Roma che c'è ancora l'Europa League e c'è il Bayern Leverkusen squadra tostissima veramente veramente tosta campione della Bundes dopo che ha stradicato il dominio Bayern Monaco dopo quanti titoli 10 titoli 11 titoli consecutivi non vorrei dire una stronzata confermatemi qui sotto quanti anni è che il Bayern Monaco non perdeva uno scudetto e dall'altra parte c'è l'Atalanta l'Atalanta che dovrà affrontare il Marsiglia oddio il Marsiglia chi dovrà affrontare l'Atalanta non mi ricordo comunque sono altre due partite in più va bene e l'Atalanta c'è pure una semifinale di Coppa Italia da rigiocare putacaso una finale di Coppa Italia da giocare no ragazzi per questo io vi dico non è ancora detto che il Napoli può darsi in queste ultime sei partite facciano sei vittorie di fila non sarà mai vero che fanno sei vittorie di fila massimo potranno fare due vittorie e una sconfitta al massimo quindi quattro vittorie e due sconfitte perché tanto il Napoli quest'anno non ha mai mai fatto tre vittorie di fila anzi sono sempre fatte schife diciamoci la verità da Garcia a Mazzari a Calzona ecco quel cambio di passo che chiedevamo a Calzona non c'è mai stato ragazzi anzi io l'ho sempre detto se forse Mazzari non lo facevi entrare quando ci fu quelle quattro partite di fuoco secondo me Mazzari qualcosa poteva dare a questa rosa ma poteva dare qualcosa di molto importante Mazzari perché Calzona è arrivato con la tenuta fisica fatta grazie a Mazzari questo lo dobbiamo dire perché Mazzari si è dovuto rifare tutto da capo e via discorrendo questo va ricordato ragazzi questo va ricordato e va messo in chiaro e va messo in chiaro poi naturalmente è arrivato Sinatti però ecco io ci credo ancora voglio sono pazzo sono pazzo a crederci perché penso che sono rimasto l'unico tifoso napoletano a credere in questa ultima parte di campionato in queste ultime partite che il Napoli possa arrivare in Champions League la partita decisiva sarà già quella con l'Empoli partite decisive ci sono già state col Torino in casa con l'ultimo che è stato l'Atalanta in casa e poi pareggiato in casa col Frosino quindi le partite ci sono state per accorciare a quelli lì davanti ma dobbiamo vedere se la Roma si concentrerà le forze le concentrerà tutte sull'Europa League mi auguro e mi spero che le cacciano il tè considerando il quinto posto ormai quasi consolidato da parte della Roma anche se può lottare ancora per il quarto posto la Roma quindi occhio ragazzi occhio e l'Atalanta se preferirà andarsi a giocare una finale europea perché è alla sua portata ragazzi e provare a vincere l'Europa League io l'Atalanta la vedo molto molto bene fisicamente la vedo veramente messa bene forse addirittura no forse no ma forse sì forse al pari della Roma in questo momento perché a livello psicologico stanno avendo una botta clamorosa sia la Roma sia l'Atalanta sarà dura sarà dura ma se il sesto posto ti dà la conferma ed è arrivata la conferma quindi bisognerà aspettare le ultime partite di Europa League per vedere se almeno una delle due italiane andrà in Champions League e alzerà questa benedetta Europa League che nessuna squadra italiana ha più alzato da quando è stata chiamata Europa League perché prima si chiamava Coppa UEFA se non sbaglio sì la Coppa UEFA e poi è stata cambiata in Europa League nessuno l'ha più vinta nessuna italiana l'ha più vinta la conferenza league l'abbiamo vinta con la Roma la Fiorentina ci è andata vicino l'anno scorso quest'anno ci riproverà la Fiorentina però sono sincero se devo andare in Champions League qui lancio la bombetta se devo andare in Champions League e uscire nuovamente agli ottavi sperando di passare il turno perché i gironi di Champions League perché quest'anno ricomincia la Champions League ma in un altro modo sarà un campionato a parte quest'anno la Champions League e fare brutte figure senza un allenatore e senza giocatori preferisco andare o in Europa League o addirittura in Conference League per provare a portare un trofeo europeo alla portata del Napoli in baguette detto questo iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli ciao a or o o o o o o